buongiorno scuote di tardissimo di oggi è tutto buongiorno a tutti e benvenuti bentornati in live oggi siamo qua con le whitelist impero sempre perfetto bene bene iniziamo a fare qualche whitelist allora ma niente perfetto ciao Franci buongiorno non è che devi riparare la stessa cosa ogni giorno allora vediamo un po' abbiamo il giaco tv ma deve possiamo ampliare il background e infatti ampliarlo ancora ciao Iaco Giacomo vi senti? si ciao guarda sono in live è un problema? mi sento bassissimo mi senti adesso? si ok guarda devi ampliare ancora un po' il background come? devi ancora ampliare un po' il background ok? ancora? si oddio cosa ci vuol dire ancora? devi essere più lungo 2000 caratteri il tuo ancora non è più lungo 2000 caratteri come non ci ha controllato? no più di 2000 deve essere del tuo è un meno 2000 ancora ok ampliarlo poi torna ok? provo a metterci qualcosa va bene ok ciao ciao Davo eh raga non è lui che parlava basso? non è che do alzare il volume mi senti basso a me? no adesso non mi sentirei più basso non ti preoccupare so che il microfono c'è insieme a avere problemi l'asta quindi parlo io sono io che parlo basso comunque ciao picchio buongiorno rimanato 24 ore sul argomento di impero perfetto questo qua devi inviare il modulo white list vediamo se l'ha inviato l'ha inviato ok ok è inviato poi questo qua 4 ore solo in generale il vero e poi abbiamo Gino 00 Stim principale abbiamo questo 8 golpe notto se l'ha fregato già qualcun altro vabbè saldo del velocissimi se ne sono fregati e questo qua invece è stato rimandato 3 giorni fino a completata consentita ci spostiamo il primo che ciao Ale perché gli fa una scaletta mamma che fastidio infatti chiudiamola mi sposto questo vediamo chi l'ha rimandato non l'ho mai fatto la white list o no no perfetto sposto buongiorno buongiorno mi senti si ti sento ok perfetto ciao e guarda franci alzissi il volume è al massimo quindi non pensi che senti basso il pg in più no guarda sto vedendo che sei stato rimandato per regolamento giusto oggi no sono stato rimandato ieri si esatto per regolamento giusto si non mi ricordavo la la zona chiavetta insieme si la zona chiavetta ok per regolamento chiavetta pennetta scusa regolamento pennetta non chiavetta ok mi senti bene si si un attimo solo eh si se ti sente qualcosa dalle cucchie dimmelo no sento un po' soffiare tipo si allora metti il push to talk un attimo vabbè vabbè come vuoi tu è sopportabile si si non si sente sempre ok allora si allora senti sempre eh allora un attimo eh ok mi sei push to talk ok se spegniamo franci i cavi mi senti perfetto si guarda sono in live è un problemante se facciamo la white list in live no dammi un attimo allora che abbasso il volume dell'evento no ciao al cristini buongiorno eccomi oh andrei scattato mila punti sospendiamo avanti i cavi ok pronto sono in live quindi non è un problema giusto mi hai detto no ok allora se mi dici se mi dici come ti chiami ti vengo pure a vedere in live eh lo trovi nel mio profilo se guardi sotto se premi me poi guardi il profilo mi trovi ok twitch chi sono c'è scritto l'account tutto bene grazie tutto bene ok allora iniziamo con la white list definizione di rdm e vdm allora rdm sarebbe in poche parole picchiare una persona in rp senza un motivo valido e vdm sarebbe la stessa cosa però investendola con l'auto ok per evocare un danno un danno senza motivo rp con l'auto ok va bene e definizione di metagame allora metagame sarebbe prendere informazioni da fuori rp cioè per esempio uno ti chiama dal telefono e ti dice oh sono morto vieni a arrestarmi che cose che non cioè le cose che non sono successi la definizione qual è questo è un esempio allora questo è un esempio quindi metagame sarebbe utilizzare informazioni che non si sono che non hai saputo in rp ok mi fai 5 esempi di metagame metagame sarebbe allora come ho già detto prima l'esempio che ho detto prima tramite discord un esempio sarebbe tramite discord chiamando al telefono mandando messaggi mandando sempre messaggi sul telegram chiamando facendo delle chiamate dicendo per esempio sono lì vieni qui da me ok poi ne hai fatto uno allora un altro esempio di metagame mi fanno 5 mi fanno allora si ci devo pensare un po' su allora metagame questo qui era uno poi secondo mandarmi un messaggio dicendo sempre sono morto viene di oppure per esempio sono un concessionario mi serve un'auto viene online così te la compro giusto per esempio mi manda un messaggio dicendo sempre viene a arrestarmi a arrestarmi a un medico a rianimarmi ok tipo sono un medico tipo sono un medico mi dice sono morto viene a rianimarmi ok ok poi sempre tramite telegram posso usare sempre diverse piattaforme eh si si poi per esempio sempre chiamarmi e dirmi per esempio vieni che facciamo un attacco di banda per esempio i vagos un attimo perché ci devo pensare perché non mi vengono troppo in mente chiamarmi e dirmi no perché qua ci devo pensare ma ho finito le idee scrivermi un messaggio su telegram dirmi di fare di venire in polizia che stanno arrestando un mio amico per esempio oppure l'ultima cosa sarebbe chiamarmi e dirmi per esempio che gli serve un'auto di venire in rp così me la posso comprare giusto va bene ok e in effetti ma vabbè definizione di power game power game sarebbe in poche parole simulare lezioni in game che non si possono fare in game usando i meccanismi di per esempio gta meccanismi del gioco ripeti power game sarebbe abusare abusare della logistica del gioco e non dell'rp beh ma quello lì è abuso di meccaniche di gioco però power game sarebbe abuso di meccaniche di gioco per compiere azioni irrealistiche surreali che in realtà non potresti fare e essere comunque Sig Helix benvenuta esatto mi fai 5 esempi al primo andare con un'auto di lusso su una montagna secondo usare il telefono in acqua terzo usare la radio in acqua quarto usare la radio per esempio senza avere la radio non so se tu non è possibile non è possibile perché sugli altri server si poteva fare però io ovviamente ce l'avevo lo stesso fare le registrazioni senza la gopro nell'inventario oppure andare in acqua con un'auto e poi uscire dall'altra parte sempre con l'auto cosa che l'auto dovrebbe stare lì affondata invece di continuare mi sono spiegato bene un attimo va bene dai mamma mia lo vedo un po' insicuro comunque è del vestiere questo comunque vabbè raga mi piace però non so perché ma mi dà l'impressione di essere preparato l'esempio prima di entrare se sta leggendo va raga secondo me non so fare gli esempi questo adesso vediamo ora definizione di no fear una una definizione di no fear la definizione è una sola per forza ah non avere paura non simulare la paura è situazione di pericolo non simulare ecco non avere paura per esempio ti puntano con una pistola e tu non hai paura quello è un esempio ok comunque mi fai altri quattro esempi altri quattro esempi investire con un'auto e non dire per esempio agli a scendere dall'auto e fare l'animazione in cui ti in cui ti fai male questo è power game questo è power game no scendere eh poi bora è giusto scendere se ti sparano per esempio una gamba e tu non te ne stai per terra visto che non ti puoi più muovere se ti sparano una gamba un attimo per esempio ti puntano l'ho già detto vero sì e ti un momento lo posso spiegare tipo per esempio durante una rapina dovresti simulare di avere paura perché sei durante una rapina se non segui quello che ti dicono ti possono uccidere oppure durante un'azione permade perché lì deve avere a forza paura per forza perché stai per morire va bene un attimo solo ragazzi ho messo un votazione da fare interrompiamo qui la la whitelist secondo voi già abbastanza sempre io durante l'interrogazione giocare per nucleare nei strati hour grazie per i mille follower grazie lo so veramente ho superato i mille follower dio sasso pazzo sgravato grazie per il follow mi dissocio per la semi bestemmia comunque comunque finalmente ragazzi superati i mille follower e vai comunque chi vuole votate direi che possiamo interrompere qui la whitelist se passa diciamo se ho votato un sondaggio votate il sondaggio dura ancora un minuto se non sbaglio quindi mi raccomando votate pure andiamo avanti le azioni ferum quali sono le azioni ferum sarebbero per esempio uccidere qualcuno a scopo di azione cioè non in rp fare qualcosa che non è in rp eh ripeti scusami ripeti ripeti sarebbe per esempio un'azione ferum sarebbe qualcosa che non è a scopo di rp no un'azione ferum è una sparatoria una qualsiasi azione illegale che avviene nel server che non sia né punti droga né alla né alle rapine queste sono le azioni ferum capito si io direi che interrompiamo qua da da white lista non ci siamo eh angel qua non ci siamo sono messi malissimo a livello white lista non sai fare esempi le azioni film non le conosci Mi spiace Devono andare 48 ore Ok Va bene Ma buona giornata Grazie ciao Grazie Oh raga Purtroppo niente Aoi Pat Buongiorno Oh Franci Cavis è tornata vero? Raga purtroppo non ce l'ha fatta lui Purtroppo Non ce l'ha fatta e Nisba Nisba Interrompiamo qua L'ha avuto interrompere la WL Perché non sapeva fare neanche un esempio Allora se vogliamo matrimonio Certo eh Pat Se era matrimonio certo ci sono Poi magari dopo la live Pat ci serve parlare di quelle cosucce Che avevo scritto in privato? Certo ci sono Iaco Iaco Quello che era in live da me Vediamo un po' È stato rimandato per il regolamento? Se è arrivato a ampliare il BG Bombo Ha fatto il regolamento Ah beh Se ha fatto Se ha fatto la WL Penso che Penso che dai Com'è Possa anche farcela Lo spostiamo dai Ciao Iaco Ho visto che mi segui Ho visto Sì sì Ok Ho visto che hai fatto anche la WL Con Ade Tu Sì Allora L'ho fatta con tanti Se l'hai fatta con Ade Fidati che Che puoi farla con tutti Il mio problema Il mio problema non è quello Sinceramente il mio problema è È che Sono non ansioso Ma Mi blocco spesso Perché quando Quando Non so rispondere subito alle domande Dopo Non ce la faccio più rispondere Eh vabbè Poi devo andare nel panico E vedrai che è andato bene Tanto so che No no Disattivo pure la condivisione Tanto non Non c'è bisogno Wow Luca che non ci siano problemi Se la faccio Se la faccio in live Guarda Mi stai seguendomi Ecco Penso tu sappia Che sono in live Bene Allora Iniziamo dalla definizione Di RDM e VDM VDM Investire con il veicolo I player E RDM Uccidere Senza una votazione E anche se E anche pure avendo la motivazione Non puoi sortire Boy Definizione di metagame Metagame Prendere informazioni Non serve ragazzi La condivisione Dell'RP E riportarle All'interno Dell'RP Ok mi fai 5 esempi Di metagame 5 esempi di metagame Tipo Sono Sto facendo una rapina Menti che non c'è nessuno Servono per forza Due persone Gli dico a mio amico Di entrare Per Fare La rapina Sennò Se muoio Gli dico Di venirmi All'animare Un tuo amico Loggando Per venire A fare la rapina Con te Che infrazione Di regolamento Sta facendo Allora Ti so dare La spiegazione Solo che Non mi ricordo Il nome Sarebbe Che lui Entra Solo Per fare Un'azione Si chiama Combat Login Quello Che lui Entra Solo L'unico Tipo Diciamo Solo Per fare Quell'azione E Bene Altri esempi Di metagame Siamo arrivati A 2 Devi farne Altri 3 Ok E Mettersi D'accordo Su Come fare Un'azione Su Discord Puoi Darsi Il numero Metti Che io Non lo so Il numero Di una Persona In Rp Lo Perdo Per Non so Delle Motivazioni E Glielo Vado a Richiedere Su Discord E Poi E Manca Manca L'ultimo Poi Non lo so Tipo Dire Dire A una Persona Di andare In quel Punto Su Discord Ovviamente Su Non per forza Su Discord Su Ochi Dire A una Persona Di andare In quel Punto Che Poi Ci vado Io Ok Definizione Di Power Game Power Game E Usare Meccaniche Di Gioco Che Nella Vita Reale Non Useresti Partiamo Col Fatto Che Meccaniche Di Gioco Non esistono Quindi La Definizione Non è Corretta Cioè È Giusto La parola Meccaniche Di gioco Ma Usate In un Contesto Diverso Allora Significa Si dice Così Utilizzare Le meccaniche Di gioco Per Compiere Azioni Che In vita Reale Non potresti Fare Questa È La Corretta Refinizione Ok Devo Correggerlo Un po' Però Diciamo Che Il Concetto C'era Si Ok Però Refinizione Come Avevi Detta Era Sbagliata E Partiamo Con Cinque Esempi Di Power Game Power Game Sarebbe Andare Su Una Macchina Su Ok Ok E Se No Sesso Ti può salire Su un palazzo Andare Scendere le scale Con i tacchi Correndo Vabbè C'è C'è Ce la Fa Eh Vabbè Sì Però Magari Non Correndo Grazie Per Follow Jordi Benvenuto Per Farei Un altro Esempio Io Magari Andare Con Quei Tacchi Nella Sabbia No O Sennò Salire Una Montagna Andare Scalzi Nel Bosco Nel Andare Scalzi Tipo Non lo so Fare A raccogliere Ma perché Io si fa Per forza I piedi Devi pensare Sono tantissimi Tipi di Power Game Tipo Portare Portare Tipo Non lo so 10 10 12 Di acqua Senza Borsone Ok E Possiamo Il secondo Esempio Correre Con una Persona In braccio Ok Poi Portare Più del Dovuto In Inventario Di Armi Tipo Non lo so Un SMG Una Carabina Una Pistola Dovresti Evere Uno Zaio Ok Definizione Di No Fear Non Simulare La Paura In In Situazioni Di Pericolo E Mi fai Cinque Esempi Di Una Fiera Tipo Non lo so Metti Che Sono Che Sono su un palazzo E non ha paura Di buttarmi giù O Mi puntano Una pistola Io faccio Gratasso Nel senso Che me ne prego Di quello che stanno Dicendo O O Nego Le cose Che Dovrebbe Dovrei Dire Perché Sono Puntato E Mi fai Due esempi Da Non Puntato Quindi Senza Armi Senza Persone Che Mi fanno Paura Quindi Tu da Sole Basta Tipo Come ho detto Prima Buttarsi Da un palazzo Tu Hai più Power Game Perché Poi Si muori Se Cale Boh Non lo so Non mi vengono In Vabbè Andiamo avanti Le azioni Free Room Quali sono? Sono azioni Che non avvengono Nei campi O Sono azioni Che avvengono In Casualmente Che significa Casualmente Nel senso Tipo Che non avvengono Nei campi E Tipo Ti posso fare Un esempio Sì Fammi Degli esempi Tipo Non lo so Io Sono Esatto Per strada Mi ferma la polizia Io scendo E sparo Beh Ripeti Un attimo Ripeti Un attimo Ripeti Un attimo Un esempio Tipo Mi ferma la polizia Se scendi E spari E' paragonabile A un RDM Sappio Sì Però Sto dicendo Nel caso Io sono Una persona Che so Di essere Un attimo Oggi Vedo molta difficoltà Nel fare esempi E' incredibile Ragazzi Cioè Vedo veramente Gente che ha Grande difficoltà Nel fare esempi E Sto addormentando Gente poco motivata Sto dicendo Cosa stavo dicendo Ah ok Metti che io so Di essere una persona Ricercata Dalla polizia Magari dopo un inseguimento Scendi e spari Se ti trovi All'ultima spiaggia Non se ti fermano Perché se ti fermano Ti fanno un controllo Di documenti Perché piuttosto Invece di sparare Io scapperei Cioè Capisci Sparare E' l'ultima spiaggia Cioè io non è che Vedo poliziotti O cazzo Sono ricercato Scendo e sparo Bam 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 RDM Cioè Sì E' 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 Quindi Giacomo Io ti vedo Troppo di difficoltà Non è tanto La difficoltà Siamo sicuri Di andare avanti Cioè Sicuri di andare avanti E' Possiamo anche andare avanti Però il problema È che poi dopo Potrei anche rimandarti Cioè È inutile Secondo me Decidi tu Non lo so Sei pronto Perché se io vado avanti Ti faccio inizi a farti domande Però Continuo a farti domande Però poi Se poi ti rimando Perdiamo tempo Solo Perché ora Come ora Non sei messo Chissà quanto bene A livello Di valutazione Potrei provare A migliorare Andiamo avanti Allora Ok Va bene Che tipi di armi Si possono usare In azione Il free room Tutte No Solo le pistole Ok I caschi Si possono usare No Quanti poliziotti Possono partecipare In azione Non mi ricordo male Non mi ricordo male Dieci No Quattordici poliziotti Dieci criminali L'elicottero si può usare In azione Free room No Si Si Giaco Ti devo rimandare Purtroppo Ti vando 48 ore Ok Poi ti vorrei chiedere una cosa Dimmi Difendo la polizia Si può sparare Si può sparare Contro dei criminali NPC Se i poliziotti Intervengono Intervengono Io non mi ricordo I numeri precisi Perché sono Regolamento davanti Però Devi Difendi Punto Solo pistole No caschi Nazione free room Normale Come se fosse Nazione free room Ok Va bene Poi Non so se Posso Diretore il live Però Oddio Mutato Ragazzi Ho avuto paura Quando ho detto Chi Ah beh Schiri tutto in privato Intanto Poi dopo leggo I messaggi Per una calma Ok Ma bondai Ciao Mamma mia Ho mutato Appena detto Dico una cosa Oddio Adesso mi tira Una Una dampa A tv Grazie per il follow Ah Per Finisci Mi sposi Te No Caro No Adesso No Attio Posso fare Lavorare con te Simo Non mi dire chi sei Perché io solitamente Non sposto Chi sta in live Da me Perché è un po' Un cheat Stare in live Da me E essere spostati Perché tu Sai le domande Che faccio Quindi ti devi fare Le sue domande Che faccio Ed è più facile Da fare la whitelist Di gino 00 Vediamo un po' Se ha fatto la whitelist Non ciò vuole vedere Se è tornato Con lo steam principale Ora Ok Vedessi il regolamento Perfetto Spostiamoci Sto Rikin Voi voi Ho risposto Rikin Ciao Rikin Buongiorno Ciao buongiorno Sono in live Un problema per te Se facciamo la whitelist In live No Perfetto Allora Faremo questo colloquio Della whitelist In live Mi raccomando Ok Certo Iniziamo con la definizione Iniziamo con la definizione Di rdm E vdm Allora Vdm È investire qualcuno Quel veicolo E rdm Vuol dire Uccidere qualcuno In mani Senza un motivo Rdm Ok Definizione di metagame Metagame Sono delle informazioni Ottenute Magari Cioè fuori dal gioco Cioè quindi non in rp E usarle ovviamente In rp Ok Mi fai cinque esempi Di metagame Cinque esempi Di metagame Per esempio Non lo so Sono in chiamata Su discord Mi dicono Che stanno facendo Un'azione Sono in priorità Vado Oppure Sempre mi dicono Cioè non so dove sono I punti droga Mi dicono Sempre su discord Mi dicono Guarda qua c'è un punto droga Qui qui Questa è una zona arancione Bla 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 Oppure Non so Comunque Magari Sono sempre in chiamata Con dei miei amici Vedono passare Non so Un giudice In quel momento Mi dicono Guarda qua c'è il giudice Vieni Lo rappiamo E non so Tutte informazioni E così Per poi utilizzarle In gioco Non si può fare Capito E La definizione Di power game Power game È qualcosa Cioè Utilizzare Delle meccaniche Di gioco Che però NRP Sarebbero Non vere Non Possibili Mi fai 5 esempi Di power game Allora Certo che Con le definizioni Non ci cerca nessuno Andare in strada Con un veicolo stradale Avere più di Due bevande Due cibi Nell'inventario Quando per esempio Si sposta Un corpo Iniziare a saltare O a correre in giro Boh Non mi vedono altri In questo momento Ok Sono solo 3-4 Ma nei fatti Vabbè Andiamo avanti Definizione Di no fear Il no fear È Praticamente Difficilmente Mancano un sacco Mi fai 5 esempi Di no fear Sì Per esempio Quando si è Puntati da più persone Magari tirare fuori l'arma E cercare di sparare A queste persone Che stanno puntando Ok Poi Oppure Non so Lanciarsi con la macchina Giù da un ponte Alto 50 metri Sì Poi Poi Allora Magari quando c'è Ecco Ah sì sì giusto Quando arrivano per esempio I federali Diciamo Aver rispetto E paura Certo In virgolette Dei federali Che stanno arrivando Perché Avere a che fare Con i federali Deve essere una roba brutta E Non so Quando si sentono spari O comunque Cose Cioè Cose Si sentono spari In giro Fuglie Grazie per il follow Benvenuto Oddio Che fatica Che fatica Per questi esempi Quanta fatica Merendox Grazie per il follow In definizione Delle azioni Diciamo Cosa sono le azioni Freerom Allora Le azioni Freerom Sono azioni Che avvengono In punti randomici Della mappa Quindi Non Organizzati E Sono azioni Con Che avvengono Con un limite Mi sembra Di 8 criminali Non lo so Brandox Non ho idea Non valuto Gli altri staff E qui ragazzi Per il follow Appunto Sono delle azioni Rassicamente bravi In giro per la mappa E hanno un raggio D'azione 300 metri Che tipi di armi Si usano? Si usano Pistole E Niente caschi Ok E Quanti poliziotti Possono partecipare? 12 No 14 Ti dici criminali Michele ti apre Grazie per il follow Benvenuto Le zone rosse Quali sono? Le zone rosse Sono le zone Di accolta E processo Di droga Le zone di accolta E processo Di droga Ma anche la vendita? No Come mai no? Perché quelle sono Zone Cioè Non vengono considerate come zone vere e proprie Perché possono accadere dappertutto Ok E Bravi Qualche domanda? Quando Può lotare un poliziotto Mai Tranne in caso di rapimento I dispositivi elettronici Si possono Spostare i corpi Durante un'azione? Si possono spostare Ma non si possono Lutare fino al fine Dall'azione Lustaggio Può essere d'accordo Con il criminale In una rapina? Vincenzo H H H H H H H H Per rischi di permade Per assaltare la centrale di polizia Serve un ticket? No Un valido motivo L'RP però Quanti poliziotti minimo Ci devono essere Online Per assaltare la centrale di polizia? Per assaltare la centrale stessa? 8 Invece i criminali Quanti devono essere? Massimo 8 E per la polizia Non c'è il limite di massimo Che armi vuole utilizzare la polizia? Tutte le armi in città E anche i caschi Durante un'azione Freedom Due fazioni criminali Stanno scontrate Grazie a te Ma terza fazione Interviene la polizia Quanta polizia Ciao Michele Ciao Buongiorno Dipende dai criminali Da quanti sono i criminali Te l'ho detto Quanti sono i criminali Ah C'è due fazioni E più la polizia Massimo 20 Sì E si può usare l'elicottero Nazione Ferrum Sì E rapina Un poliziotto Può usare l'elicottero No Si possono rapire persone Con gli elicotteri No Eh sì certo Rapimente Nazione Ferrum Sì sì Vero Io non posso fare l'elicottero Perché ho 15 anni Mi dispiace La uelle per entrare su impero Colocco i staff No no È uelle per entrare su impero Perché sono neutrali Perché sono considerate Diciamo Intoccabili E devono essere neutre Sia alla parte legale Che illegale Fammi un esempio Di neutralità Dell'armeria Cioè Nel senso Che Un criminale Non può Minacciare L'armaiolo Di vendergli D'armeria E la chi sbaglia L'armaiolo O il criminale Il criminale Ok Fammi un esempio Di neutralità Da parte dell'armeria Di violazione Della neutralità Un'azione neutrale No no Un esempio Di neutralità Da parte dell'armeria Per esempio Anche se Non so A conoscere un amico Che in città Non gli dà Cento armi gratis Oppure Comunque Non si Non entra In azioni Cioè Non partecipa Ad azioni A fuoco Due esempi di neutralità Robbo Robbo tv Tv Grazie mille Benvenuto sul canale Quando puoi aprire un poliziotto Quando Con un motivo Rrp Secondo te Quali sono le cose Quello che andiamo a sapere Per la VL Tutto il regolamento E ci deve essere Un minimo Di due pinzotti Servant ticket Per avere un poliziotto Trovo delle motivazioni Guardi Dimmi un po' Range Un'azienda Freerome 300 metri Per le rettone rosse 500 E le zone arancioni Quali sono? Le zone arancioni Sono dei territori Che il cartello Da Le varie gang Da difendere Chi dà le zone arancioni? Il cartello Ma chi ne dà? E a Le mafie Come sono divise Le fazioni criminali Nel server? Partendo dalla più alta In generale Ah in tre Cioè? Mafia Clan E gang Ok Quale è la differenza Tra mafia E clan? Che un clan Sottostà alla mafia Poi c'è una domanda Mi devi rispondere Sì o no? Il medico Può compiere azioni Legali? Fuori servizi Eh beh Hai sbagliato la risposta Perché ti ho chiesto Sì o no Se non specifica Se è in servizio No Io non posso sapere Se è sì o no Infatti Ti ho chiesto Un medico Può compiere azioni Legali Tu devi rispondermi Sì Perché il medico Può compiere azioni Legali Ok Dopo quanto tempo ti ricordi Se rispondi in ospedale? Dopo un'ora? No Non puoi ricordarti Ah giusto Giusto Se ti resta il medico Un po' quanto ricordi? Eh Dopo un'ora Se ti resta l'admin Non posso ricordare Perché vale come Se mi fossi Andato l'ospedale Se usi lo slash Ambulanza Ehm Dopo un'ora No Ma cazzista Sì io ti specifico Quando puoi rapinare L'ospedale Dispondi missioni Una prossima domanda Il medico può essere Comperazioni illegali Eh sì Sì è fuori servizio Ma Ma io Cioè Oh io Quando è che i medici Possano vendere medikit O antibiotici I medici Ehm Il medico Cioè Non penso Possa vendere Medikit Antibiotici Non pensi O non può Cioè Non può Vendere le bende La polizia Ha appena vinto Una zene Freerome Sta preparando Un convoglio Che andrà Per il carcere Quanti criminali Possono assaltare Quel convoglio Branddox Ehm Mi rimando Sei ore Anzi Ok A posto Buttiamolo Allora Rikin Ti devo rimandare Sei ore Sei ore Sei ore Sì Non ti rimano troppo Perché tanto Non sei chissà quanto Impreparato Però hai avuto Molte più difficoltà All'inizio Nelle domande Delle definizioni Negli esempi E poi Ti sei recuperato Un po' E poi Hai sbagliato Delle piccole domande Magari che sono Molto semplici Ti ho dato a pregare Quindi sei ore Secondo me Basta L'avanzano Ok Va bene A posto Ciao Ciao Già Sposta Ottimo Questo Sì Schofield Raga Comunque Per il VOD Per il VOD Non potete Dovete fare Fate appunto Schermativo YT Per vedere I VOD Iscrivendovi Al canale YouTube E vedete E vedete Il VOD Vedete Potete cercare Dall'Ivod Sul canale YouTube Ricarico Con un po' Di giorni di ritardo Confronto A quando Faccio una live Comunque Per me sto qua A rispondere Potete fare Stasera Ora non ci sta Infatti Grazie per il follow Comunque Freddy Shock Benvenuto al canale Se fate Sono appena iscritto Grazie Allora Per l'iscrizione Sul canale Perfetto Allora Gas Il follow SG Kraken SG Freelix Kraken Benvenuto Vediamo un po' Questo Best Tch Beh Beso Tch Rimando Deve sistemare Il background Da Bradley Quanto l'ha sistemato Il background Il carattere Il carattere Lo aggiungi Quanto l'ha messo Qui ce lo spostiamo Deve ampliare E sistemare Il background Anche Shino Se controllo Anche lui Se l'ha sistemato Poi abbiamo Un'altra Per ampliare Il background Il genere Carattere Mamma mia Tutti questi Background Mamma mia Arce C'è nessuno Di rimanato Per il regolamento Procedura bene Guardi Skraken Come è sembrato Professional Te Quel fallito Di Bradley X Masio Grazie 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 Torna a fare Responsabile Marshall Fallito Torna a fare Il nulla facente Anzi Il Marshall Esatto Mamma mia Ma Ti pare duro A fare Marshall Cioè Ma come fai A divertirti A fare Marshall Masio Cioè È nel ruolo Più noioso Del server Siete lì Come dei pali Davanti all'entrata Del tribunale Anzi Non c'è Niente Con tribunale Questo C'è Ammesso Ciao Ricky Buongiorno L'ha messo Più o meno Dai Come è bisogno Sono Freelix Sono il capo staff Di Nairam Ah Capo staff Di Nairam Bene 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 Lo sposto Mariano Come lo prendono Come lo ci flammiamo Io Mariano Sempre Su banco Vai sposta Su banco Estando Ma il ban È 24 ore Giusto Perché Quale ban Un problema Ciao ci senti Ok perfetto Però le console Le politiche di lui C'è Sì Perfetto Allora Vabbè Mi ha modificato Il background Azz Madanairam Miedi notte Cinque giorni Se non erro Cinque esempi Di power game Senza veicoli Allora 24 ore Mi l'ha diminuito No Non li so Stavo leggendo bene Tutto il regolamento Non mi sa Nairam 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 Ci prendiamo sempre in giro A vicenda Scherziamo Uno con l'altro Fail RP Pronostico Sì sì Se lo faccio Ragazzi Eccomi No Io sto ancora Fai conto A Affinazione No Hai passato Regole in base L'RP Ecco Sono regole Che dovresti sapere In due anni Di esperienza L'RP Beh Facunto che Io ho fatto Sempre tutto Non white listato E non ci ho mai Grazie per il follow Zetalezzo Benvenuto Io vado Sono passato A fare un po' Un saluto Ciao Cracken Ciao Scrivix Lo sposto Schifo io Sto scrivendo Ah Scrivendo Quindi Perfetto Mi ruba pure le white list Vuoi andare Besodiac Ciao Grazie Dockhand Ragazzi per il follow Ricky il 23 Ragazzi per il follow Benvenuti Mi ruba le white list Bradley Niente Anfatti tutto il pomeriggio Mi ruba pure le white list Guardate che ladro Guarda Ma ne ho fatte poche Anfatti due Io ne ho fatte Una, due, tre Ne ho fatte Anzi Tre Ci sta Ci sta Ci sta NRP During 20 20 20 0 Io non posso Avere l'account Steam Inghiltero Cosa posso fare Sono su altre server Con lo stesso Steam Caro mio Io ti ho detto Sei sempre rimanato Per il Tornare con lo Steam Principale Tornare con lo Steam Principale Purtroppo Io non possiamo Wettlistare Con l'account Principale Xmasio Avete ragione Fare i marshal Di chi è troppo Rp Per chi fa La polizia I miei giudici Mi sono messo La quattro terzi E hanno Eh no Proprio Proprio Una fog Una fog I miei giudici Preferito Sono la guardia Ieri Ai processi Ah La guardia Però Doxocure Scrivo rimandato Di otto giorni A fare esperienza Rp Ma in otto giorni Come fai a fare esperienza Rp Hai ragione Non ti biasi Nessuno Non ti biasi Oh cazzo Ho dimenticato di Guardate gli abusatori Oddio Ho messo il pronostico E me l'ho dimenticato Iniziavano a farmare punti Iniziavano Comunque Li metti i VOD Così mi guardo le domande Che ho scritto Che ho cannato Eh Rikin Il VOD Lo troverai Il 20 settembre Sul canale YouTube Perché Sono Tipo Allora Perché in pratica Cosa Io faccio Ricarico i VOD Su YouTube Appunto perché Se vuoi vedere i VOD Su Twitch Allora Solo per abbonati Altrimenti Se vuoi vedere i VOD Li guardi su YouTube Ma è con un gara Un po' di ritardo Un po' di ritardo Perché ci sono tutti Aprire La descrizione Del Bruno Che poi La faccio cambiare Non l'apro Sposto Scrivo io questo Bruno Siamo in live Ti dà fastidio Bruno Che ha scritto Che ha scritto Ah Una lunga fiera E sotto No E nelle impostazioni Vabbè Fallo con calma Tanto ci vediamo Tra 5 minuti Ok A posto Dopo Ciao Perfetto Allora Il VOD Comunque sto dicendo I VOD C'è il discorso dei VOD I VOD Allora Io li di carico Su YouTube Appunto perché Li voglio ottenere Per sempre Ok Così rimangono Per sempre Per chiunque Vuola Quindi Per chi vuole Vedere i VOD Vada su Canale YouTube Faccia punto Schermativo Yt In chat Per iscrivervi al canale YouTube Flix Punto Se Grazie per il follow Altrimenti Se vuoi vedere i VOD Istantaneamente Fai la sub Però Questo Non lo rende obbligatorio Nessuno Infatti per quello Appunto Do la possibilità A tutti Di averceli su YouTube Però con un po' di ritardo Di sbligarti Licenziare E prendere nuova regola E qua Farò fresco Fresco Eh vabbè Eh sì lo so C'è un po' di ritardo Perché sono tanti VOD Ma quanto esiste Impero Impero esiste da due anni Esatti Dall'altro ieri Ma se 2005 No Sono 2002 C'è pure scritto Nella descrizione Se non sbaglio Pronto Sì Dani sono quello Che avevi rimanato Per qualche settimana Fai tornare con l'account Disco principale Poi l'account principale L'abbia rimanato Per il BG Ti ricordi? Ah bene ok No non mi ricordo Comunque Ninja Fa le guai Ti so intanto Yes Comunque sa che prima Ho aperto Ho aperto La descrizione di Bruno Eh Senza vorrello Eh Quello per VOD Hai 1000 follower ora Sì Per fortuna Finalmente Ho raggiunto 1000 follower E anche Ho raggiunto Il subgo C'è il follow goal Di oggi 20 follower Raggiunti pure oggi Grazie a tutti ragazzi Ma perché Matteo Adesso viene bannato Io ne sto bannato Ragazzi 24 ore Questa notte Ah mezzanotte Sto bannato Se non erro Non ho capito bene Forse sto bannato Non so Ho visto Il kill Se non posso avere più L'account steam Quindi non posso giocare Impero Eh no Cioè potrai giocare Tra un po' di tempo Se notiamo Che tu vuoi giocare Quindi aspetti tempo Per poter giocare L'ora si potrai Farla white list Altrimenti No Non subito Eh Allora Vediamo sto KFC Simo Che mi ricordo Che va a farla White list Mi sembra Farà qualche domandina Esatto Da sapere Quale le basi 22 dell'8 Basi di roleplay E Michael Io vado a vedere Prison Break No dove scappi No sta qua con me Vai Prison Break E dove vai No 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 Prison Break Ma aspetta Prison Break No sta un po' con me Va Ho bisogno di compagnia La vado Sig elix Mi fanno a me la vuole Te la faccio io Aspetta che hai sposto Michael Che non ha fatto il final Del suo background Hello Mutato Perfetto Fk Ciao Rimandato Un'ora Per Fk In UL Regà Non si sta Fk White list Ma quando hai fatto Ma Quando hai fatto la massa VDM Invece nelle pressioni Scorse domeniche No Lì non è stato bannato Però pure se il giorno dopo Te capi Va in pausa il dipendente Eh si va in pausa No non va in pausa Brother Sta con me Vero Ti si sta Ho già prendo Prison Break Sul telefono Guarda te lo mentre stai qua Dai non rompere Asfk No Fk Ma Hai già 24 Hai già 24 mesi Secondo account Steam Che se hai 24 mesi Secondo account Dopo ripirano due anni Se l'account Non vede capirei Non ho capito Meno due minuti Le hai detto Meno due minuti Le hai dato E Ginkgo Cioè Sta ancora qua Tanto che fatti capire Non sei ancora accorto Che sta in nata Guardi sconclusa Comunque ciao Ginkgo Mi mancava un fallito In chat Come te Sono in attesa Elix Si Ecco ti qua Ti vedo Dai tempo di smutarsi Almeno Ma sta ancora qua Non sei manco smutato Neanche ora Si è accorto Di essere fk Account Steam Che hai detto Che non va bene Ha 24 mesi Come Non c'ho capito niente Ma quando Poi te l'ho detto Come fai a stare Fk Io in attesa Mi metto di passare tutto Eh già Non lo so Per la gente Sa perché Era un nuovo account E farti la sorpresa Quindi fanno la guai Di scoprire Allora ragazzi Comunque come dice il bot Mi raccomando Fate punto Schemativo Comandi Per vedere i comandi Ad itia Grazie per il follow Comunque mi sono giustificato Punto schemativo Comandi Per vedere tutti i comandi Del server Punto schemativo Yt Per iscrivervi A mio canale youtube Punto schemativo Discord Per entrare su discord Punto schemativo Server GTA Per vedere su che server GTA gioco Bravissimo Ginkgo Che misclicca Punto schemativo Punto schemativo White list Per vedere Le white list Quanto come bisogna farle Oddio Se c'è lo spam Dei comandi Oddio Perfetto Comunque ecco Se volete iscriversi A youtube Punto schemativo Yt Mamato Ginkgo Iscrivetevi al canale youtube Per vedere Le repliche Del mod Su youtube Ah Però è troppo Ho paura Ho paura di fare UL Doc Enter Eeeh Caro mio Ripassa bene Poi non avrai paura Non è ma se la voce è poco Bianca Posso fare UL Sugar Devi venire in White list Vediamo come è la tua Voce E poi valutiamo Secondo te hanno fatto bene A togliere le volle di gruppo Su me no Allora Partiamo col fatto Che le volle di gruppo Sono comunque Un po' Un po' borderline Cioè Le fanno Non le fanno Non si è capito Perché ne ho viste fare E poi Non ne hanno fatte più Comunque però Entra gente Che non Li fai un provino Vero e proprio Poi magari Tanti entrano Con un secondo di account E non te ne accorgi Eh De maniera solo l'ideale Ecco Mi avete rimanato Perché il secondo account A 24 mesi Essendo il mio account Essendo il mio account Per quello storico Sto bannato Gioco al P Da 1 o 2 anni L'account appunto A 24 anni In un mese Questo non so Chi ti ha bannato Chi ti ha rimandato Cnj Alli Alli C'è un mico Che ha la 15 anni Con la voce bianca Può fare la gualla Giusto Beh Se non ha la voce bianca Può presentarsi Vedremo Ciao carilli Buongiorno Lezzo Comunque Volevo chiederti una cosa Il mio amico Aveva mandato troppe volte Il bando in polizia Troppe volte E una volta E poi adesso È stato rimandato Senza fare Quello Quello sto sbaglio Posso usare Posso usare Per la voce Un attimo Adesso vedremo Quanto giro è meglio Una voce Dai 10 ai 40 minuti Un'ora Dipende da chi sei Come vai E se vai bene Male O chi ti trovi Anche di staffer Michael Schofield Eh ragazzi Se vengono rifiutati Vuol dire che c'è una cosa Che non va Ma se possono fare Guardi coppia No I due video su youtube Sono molto utili Ah grazie Median Fox Grazie mille 30 minuti Comunque si È l'interioro Medio Fai pronostico E che pronostico Devo fare Sì Punto Escrivativo Yt Ma chi ti ha rimandato KNG Non ho capito Io non lo rimando Per l'account di steam Solitamente Cioè a meno che Non me ne accorgo Forse Bradley L'ha fatto Vero Bradley 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 Mi ha abbandonato Non ci posso credere No ho sbagliato Ho spostato da Mitra No mi ha abbandonato E vabbè L'ho arrivato via Niente Mi ha abbandonato Bradley Che cavalleggine Non possiamo parlarne Parlare con Bradley Grazie per il follow Sky Riz Official Benvenuto E superiamo quindi Il follow of goal Con 22 followers Su 20 Grazie mille KFC Guarda se ti ha rimanato Guarda se ti ha rimanato Bradley Preferirei che parli con Bradley Per questo Aspetta che si smuti lui Ok È tornato Bradley Bene Definizione di RDM E VDM RDM Se uccide il gioco Senza motivo valido Uncidi Con la pistola Per esempio con le armi RDM E cosa? RDM VDM VDM Pardon Sì Ti preoccupare VDM quando utilizzo un virgolo E investo gente a casa Con un virgolo Ok E definizione di metagame Eh voglio dare mandato Definizione di metagame è Xkrix E quando tengo delle informazioni Fuori RPA E mi fai 5 esempi di metagame? Sì Per esempio Uno mi scrive su Discord E mi dice Incontriamoci questo posto Che sto Che c'è Che c'è gente importante Della mafia Per esempio Due mafiosi portanti E poi Un altro motivo Un altro Può essere che Uno mi chiama Sul telefono Sul telefono Della vita reale E mi dice Ehi Vieni qua Vieni qua Al Vanilla Ci sta una festa E Poi un altro esempio Può essere Io uno mi scrive su Whatsapp E mi scrive su Whatsapp E mi scrive su Whatsapp Uno mi scrive su Whatsapp E mi dice Vieni Non vieni 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 al Al concessionario Come ultimo esempio Giordi Grazie per il ragazzo Ci vediamo Un ultimo esempio Non saprei L'ultimo esempio Non mi viene Nessuno in mente Mi senti Allora Veniamo avanti Finizione di power game Finizione di power game Sono delle azioni Che abusano La meccanica Del gioco Che per esempio E per esempio Qua mi butti in acqua E usa La radio In acqua O O per esempio Anche il telefono O per esempio Ci sta un muro Davanti Io Io vado Di dove sei Simone? Dove sei? Cosa? Di dove? Di dove sei? Che regione? Di dove sono detto? Che regione sei? Sì Cilia Ok Andiamo avanti Andiamo avanti E pure Per esempio Ci sta un muro Di fronte Io vado 300 300 km Oraria 300 km Oraria E E vado A sbattere forte Ma non simulo Il dolore Non simula Poi anche Un altro Power game E quando E quando Porto di più Da mangiare Per esempio Mi porto 5 di cibo E ci ho 7 di acqua Ok Passiamo alla definizione Di No fear I no fear E quando Non simula Pura Dentro il gioco Un palimax Questo E per esempio Per esempio Ci sta Oddio Lupe lupe Quello 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 Succide Un grattacielo Poverito E' tutto ansioso Vai tranquillo Simone Sì Per esempio È statissimo Vai tranquillo Sì No Sempre Sono Citato L'ansia Liana Senti Non ti mangio No No Che per esempio Ci sta Ci sta Un treno Di fronte A me Non ho paura Non ho paura Che Non ho paura Che Che mi veste Viene di fronte A me Non ho paura Che moro Non ho paura Poi un altro Esempio Può essere Può essere Quando Sto su bordo Del grattacielo Non ho paura Che Non ho paura Che cado Poi per esempio Uno che mi mira Con la pistola Mi dice Manina Mi dice Alza le mani Tutto là Però io Non simulo Non simulo La paura Ok E Sì Poveraccio Vabbè Non prendo nel giro Dai E Allora Definizione di Di azioni Free room Cosa Definizione di azione Free room Del Free room Di dire Quanti possono partecipare Azzaro il pollo Per Salvatore 12 Cosa è le azioni Free room Le azioni Free room Sono Dai io vado Sono Ci sono Dei criminali Che Dei criminali Che sparano Mezzo a una Sparatoria In zona Sparatoria Quindi Non sono Free room E criminali Che sparano No Le azioni Non ho Su di Sì Sì Ritornato Non ho Su di Sì Ma Se del tipo Mi abbono E grazie Se fossimo Non sarebbe Per se NRP Non ho Sì Ma è citato Basta Prendere in giro Grazie per il follo Davide Sama Benvenuto Sì Davide Le fa panicare Ancora Peggia Bene Dimmi un po' Quanti criminali E quanti agenti Passare Una azione Free room Possono partecipare Sì Quanti 14 poliziotti 10 criminali Sì Due fazioni criminali Stanno scontrando Intervene la polizia Quanta polizia Intervene 20 poliziotti L'elicottero Si può usare In azione Free room Sì o no Sì Quindi Un poliziotto Durante la rapina La pacifica Può usare Un elicottero No E posso rapire Una persona Con un elicottero Sì Ok Rispondimi con Sì o no Alla domanda Che faccio Ricordi Sì o no Se mi rispondi Con qualcosa Diverso Te l'annullo Ok Ok Devi iniziare a dire così Perché se no La gente capisce Il medico Può compiere azioni Illegali Sì Ah Beh bravo Giusto Può compiere azioni Illegali Sempre o in certe Sistostanze Ehm Certe situazioni No ma in certe Criminali Dopo guardate Ti ricordi Se vi rispondi In ospedale Cosa ti ha portato Al ferimento Non mi posso ricordare Se vi rispondi In ospedale Se vi rispondi In ospedale Il mio ristorante Sarebbe come rispondi Il mio ristorante Sarebbe come rispondi All'ospedale Non mi posso ricordare Niente Posso far fare L'ostaggio A un mio amico L'ostaggio A un mio amico Sì ma Però Lui rischia Il Il Car Il Il Car La morte La morte No però Si può farlo Ma rischia Di essere Non mi ricordo Come si chiama La morte definitiva Del giocatore Rischia Ogni dire Eh L'ostaggio A un mio amico Concordato Non rischia Il Massimo Rischia Il Fermare Ecco Non mi ricordavo Si può sparare No Sparare No Eh Eh Ah Quando si può sparare Dal veicolo In azione Estrema Azione Azione Firum Estremo Era Eh No Era tipo No In caso di No fear Estremo No fear Estremo Oddio Ho lasciato la voce Adesso mi Mi aggredisce Ok Ehm 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 Quando puoi lutare Un poliziotto Ehm Mai Non puoi lutare Un poliziotto Non puoi prendere Lutare Lutare S'Europa E invece Durante L'azione Cosa puoi lutare Gli oggetti Elettronici Durante L'azione Non puoi lutare Niente Si luta L'azione Finita Ah Ok Tutto uguale Ragazzi Il pena Filomo Ehm Quando posso fare Power game In azione Cosa Quando posso fare Power game In azione Direi lo faccio Di sana volontà O Oh mio dio Raga Ma è Tom Ma no No Power game Lo posso fare Ho sbagliato In qualche momento Di sana volontà Posso farlo Mamma mia Ma tu power game Non lo puoi fare No è però È vero che Non lo puoi fare Ma la vita Tu vuoi fare O essere bannato Lo fa A me A suo rischio A suo rischio Vabbè Non prendiamoci in giro Power game Non si può fare Sì lo so Però a suo rischio Non si può Si vero Non si può fare A suo rischio A suo rischio Ho scattato una domanda Vediamo un po' Aspetta un attimo Quali sono le zone rosse? Le zone rosse Sono i campi di droga E dopo I campi Sono i campi di droga Più quando la processi Anche E la venita invece È zona rossa? Cosa? Anche la venita È zona rossa? No Se no sarebbe Tutta la mappa Zona rossa In dire Tutte le parti Sarebbero E quali sono I punti Di droga Nel server? Cosa? Quali sono I tipi di droga Nel server? I tipi di droga Cocaina Oddio Non iniziate a riscattare Tutte le domande Sono Coca Cocaina Vedete che chiede Le domande Simo Brandox Coca Cocaina Coca Cocaina Che è la stessa cosa Ripetire fuori La droga Coca Cocaina Cocaina Allora Vediamo un po' Le domande riscattate Rapina banca Blaine Simo Non l'ha riscattata Luke La riscattata Oh cazzo L'ha perso il segno Simo Non l'ha ancora chiesta Ma? Avanti Avanti Ci sei No Perché ho sentito Uno quittato Anzi Vabbè andiamo avanti La rapina La blaine Tutta Escrivimela Tutta per fuori Cosa? Escrivimi la rapina La blaine Alla banca Dice in dire Sì Che senso? Ah La rapina La blaine Devi farmi Tutto un ticket Devi fare Puoi 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 Devi fare tutto un ticket In che senso? No Devi fare un ticket Cosa? Ah Devi fare un ticket Così Così può fare La rapina Devi Devi fare un ticket Su discord La rapina La banca Allora Simone Non ci siamo Non ci siamo Per niente No Troppa ansia Più che altro Non ci siamo Mi dispiace Devo rimandarti 48 ore Io Tengo l'ansia Quando mi so L'ansia Eh lo so Però Qua non ci siamo Devi tranquillizzarti Non è che ti uccidiamo Se non la passi Sì Tranquillo Ok va bene Ah boh Ciao Ciao Eh raga Però C'è Un po' Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Ma li posso Ciao Ciao Quindi Nether Ok il tuo unico Il canto steam Giusto Di quello L'altro Stuff Da quanto fa Rp Parla un po' Parla un po' Eccomi Sono in live Quindi Ah buonasera Ok perfetto Parla un po' Presentati Presentati Ma io sono Leonardo 15 anni Sì sì Mi piacerebbe giocare Sì 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 Buon Torno su io Ciao Ah raga Eh Ogni Fine Quella Mi dispiace Do obbligo Mi dispiace Sempre Non è che ci godo Rimandare Persone Eh Sì Sì Facile la vita Così Brandox Ender Mi andiamo a piena Subbligando La scaletta Bravi Quelli che non mettono Le tag Comunque Io vengo Dalla Scozia Vorrei vincere Un milione In questo programma E torno a casa Con qualcosa Con qualcosa E come sono io Ciao Ender Boh Che dire E mo No Non tende Non ho avuto niente Ivan Zero Tagasse per il follo È l'altro ragazzo Che ti ha rimandato Che non ti ha messo Il ruolo Rimandato Ti ha sbagliato O se tu Sei uscito 5 giorni Di esperienza di P Non mai Vengono corto Lo spostiamo Ciao Ciao guarda Sono in live È un problema? Ok guarda Devi ampliare il background Ok È troppo corto Deve essere più lungo Di 2.000 caratteri Va bene? 2.000 caratteri Va bene A posto Ciao 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 Allora Esci pure tu No Eh però Cazzo Le mettete qui Comunque non si è ancora accorto Michael Cioè Non dobbiamo far capire Vabbè ragazzi Io perdo la chat Quindi se avete Di scrivere i messaggi Taggandomi Quando vedete che leggo Quando vedete che leggo Di messaggi E avete delle risposte Taggatemi per fuori Che intanto la perdo La chat Risposta ragazzi Di prima Avruno Che sembrava serio Oddio Non è che mi sono tanto serio Con la parola Mungolfiera Nella Nella descrizione Ciao Ma Andiamo Ciao Da quanto tempo fai R.P. Anthony Sono in live Mi raccomando Anthony Guarda Il mio caso Con Bradley Dopo Però non capisco Dici che Io ho la voce bianca Parla la tua volta Con ninja Mi ha detto Che deve avere La voce bianca Eh Muskybox Però non capisco Dici che io Ho la voce bianca Io ho la tua volta Con ninja Mi ha detto Eh ragazzi Allora Parla con ninja Sì 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 Purtroppo È la voce bianca Quindi tornata Un paio di mesi Ciao Ciao Buona giornata Tanto addirittura Che vuoi fare La wildest Di gruppo Schia Non la fai Tutto con ninja Allora Buona In chat Mi dicono Pov A 15 anni Con la voce bianca Bambino Eh raga Purtroppo Chi ha Chi ha la voce bianca E ha 18 anni Non può fare Comunque la wildest Mi dispiace Dai Da tempo fino alle 7 Meno di un quarto Riesco a fare la UL No Un attimo Adesso devo decidere Chi spostare Sposta a me Dopo lui Ti da subbligo Io non è che sposto Quelli che stanno Nelle cose Che mi chiedete Di spostare Io mi sposto A randomicamente Le persone Non chiedetemi Per fuori Spostare in chat Perché non mi sposto Facciamo Facciamo Vabbè Conosci le moncity Sì Conosco le moncity Conosco le moncity Ma così fa A fare le guele Con ninja Devo buonarmi No Brandox Devi aspettare E avere il culo Che ti sposta Ninja Quelle poche volte Che le fa Beh Si può Per donare Una piccola svista Sì Dipende Per donare Piccola svista Gaspi Follow GB01 Lollo Y Benvenuto Ciao Ivan Tutto bene Tu Devi Doppare Di 100 sub E la Madonna No No Ehi Alessi Eh stavo spostando I Paura Spostare la gente Eh vedi Ho paura Quando sposti la gente Che mi spara Un Devo Impilare Rientro Ah ci sta uno Che mi chiede Una cosa Riguardo Il suo account Di steam Che l'ha rimandato Per Che aveva L'account di steam Di 24 mesi E tu le toccherà Troppo poco Eh Esatto L'orpy Come va Tutto bene Tutto bene 20 sub A staff Promosso Perfetto E niente Non lo so Chi ne hai Alli Vieni in attesa Che ti spostiamo 20 sub Michael Scoffield Quello che hai spostato Prima Michael Scoffield Ah si C'ha l'account Steam Di 4 mesi Di 24 mesi Ma ha detto lui Ce l'ha Di 4 mesi Ehi Allora C'è qualcosa di sbagliato Alan Lazzari 4 mesi d'account 4 mesi d'account Non 24 Appena poi Sposta me Ho detto Non chiede a rispostarvi Pier salva Ma Sta giocando A cavalcarti Vabbè Io Questa gente Eh Mi ha dato due ore Alla già le 16 16 17 18 Vabbè Mi ha scrivuto Background Su Lo devi rimandare Perché Mi ha mentito Eh Vedi se c'ha Background Vedi se c'ha Background Suo Se hai l'account Di Steam Troppo Nuovo Non puoi fare La White Per prevenzione Vedi che Anche è calda A 5 metri da te E l'Amazon Brandox Anche perché Dice avere Due anni Di esperanza Rp Per l'account Steam Di 4 mesi A me puzza Eh E' un'acqua Descrizione Nel suo Stato Background Background Regolamento Chi Pier Salva Può restare lì Fino al tempo Rimandato E' scaduto Poi E può ancora Stare lì Ci abbiamo Altre persone Sopra Se vedi Account Steam Vanno bene E dipende Alitrack Se giochi Dipende Dipende Alitrack White list Con l'account Steam Che devo Vendere Grazie Prego Ciao Ciao Oh il Bruno Quello che aveva La fantastica Descrizione Di se stesso Ah si Ciao Un po' Di rimandati Due anni Desperanza Rp Questo Contro Lo Steam No Ok Questo qua Tenera Rouge Attento Lo sposto Due anni E quattro mesi Opposto Questo Tenera Rouge C'ha il background Cortissimo Nel modulo Lo sposto Ciao Ciao Guarda Volevo dirti Ha il background Un po' Corto E Devi ampliarlo Deve essere più lungo Di tutto Totto Di domina caratteri E devi compilare Il modulo Whitelist Che manca Ok Quindi ci vediamo Tra un po' Dai Ciao Ciao Davide Ho rimandato Deve ampliare Il Found E Compilare Il Ulo Wild Se ne posso chiederti Un consiglio Chiedi 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 pure Dimmi Dimmi Ho fame Mamma mia Sfila Loro Per Stocca Il Nostimista Da 8 Anni Basta 3 2 1 Ti sposti Bruno Bruno Ciao Arrivo subito Io mi muto un attimo Intanto Raga Muto un attimo Cosa che non vuole Come che Scere cosa Di sbagliato Torno tra poco Mi muto un attimo Arrivo Io smuto la live Quindi mi raccomando Parle consone Sì 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 Ho creato Ho cercato di creare Un personaggio Un po' diverso Dal solito Dai soliti Che si vedeva in giro Quindi Un pochino Un pochino Un pochino più verso Le buone mani Non sempre Le solite Ma diventa il mafioso Perché gli hanno sparato Alla madre Quindi l'ho creato Con No Diventa mafioso Perché? No È un esempio Tipo che Quelli che diventano mafiosi Per i Motivi più disparati Ho creato Ho cercato di creare Un background Un pochino più articolato Con Anche facendo capire Il suo Carattere Come vuole diventare Come si vuole trasformare Nel futuro Come vuole comportarsi Nel server Che è La città Che vuole In cui vuole andare Il suo passato È Che il padre Gli ha sempre Insegnato Gli ha sempre Reiniettato Nella testa Per dire Gli insegnamenti Di Benismo Sempre comportarsi bene Che ciò Che tu fai Le altre persone Ti capiterà Anche a te Non comportarsi mai male È Il padre Che era Della Polizia Antidroga In un ride In cui Gli arriva una telefonata Muore Perché era La telefonata Era per ammazzarli Infatti A loro E muore il padre Morto il padre Lui segue Le ormine del padre Entra anche lui Nell'antidroga Tramite I vari concorsi È E Sempre Dopo un po' di prove Trovano Un Come si chiamano Un Magazzini Comunque Produttori Di Di Coca È entrato Di Coca Non vorrei dire parole Che magari in live Non ci possono dire È entrato Non ci vede più Dalla Dalla cattiveria Perché hanno ammazzato Suo padre Quegli Di stesse persone Potrebbero essere Ognuno di loro Perché sono sempre Gli stessi Prende E spara Ad ogni movimento Spara Ad ogni disobbedienza E Mi ammazza Tre Sui 27 Che ha ferito E la madonna Quanti ne ha ammazzati Ne ha ammazzato Tre E di quanti ne ha feriti 27 Ah Se prendi un mitra E Scarichi un caricatore Girando Ne ferisce un po' Poi come era un magazzino Anche grande Infatti È spiegato per bene Nel 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 background Viene espulso Con una lettera Eccomi ragazzi Continuo Disonore Dalle forze Dell'ordine Che non può entrare Ragazzi Se qualcuno Fammi domande Me le rifaccio Anciata Tragandomi Così lo vedo Grazie Comunque Sono tornato E cerca di capire Cosa che aveva sbagliato Cerca di capire Il senso Dello sbaglio Si Non ce l'ha fatto più È È mangiato Dal rimorso Del Di ciò che ha fatto Finché un giorno E questo è un momento Eccomi Cioè Questo è un momento Che aveva un giorno Passando Tornando Tornata a Futura Ma sta mangiando Dani sono Antenore Sul disco Sono a lavoro Ma Torna in attesa Wildlist E poi valuteremo Quando sei in attesa Questo padre Abbiamo passato Da Un passato da Anche se Favano Lai tra cinque anni Cambia qualcosa Da mafia Che lascia E' semplice C'era una foto Dei figli Che piangevano Lui Capisce Che ha sbagliato Lui capisce L'errore Che ha fatto Capisce Di tutto questo In che senso Davide Cerca In ogni modo Di togliersi Da rimorso Ma non ce l'ha fatto Non siamo parlati Ancora del background Si Ho finito Ovviamente Finchè una serata Prende E pensa di farla finita Si infila in bocca Revolver Schiaccia il grilletto Con le lacrime Agli occhi Ma facci letta Allora Interpreta questo Momento Come una seconda possibilità Ah io sono Perché mi vuole Spostare Sono male due ore Si La vabbè Ti sposterò dopo Il suo padre Gli viene in sogno E succedono un sacco di cose Che gli fanno capire Dai Ivan hai rischiato Una domanda Che domanda Ma che faccio Allora Prende tutto Quello che Cos'era Della Della E Prende tutto Quello che aveva E E' una cosa fatta da ninja Per 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 Contrattare il caratello Siccome te gli dici Quando avrò 18 anni Cambia qualcosa Ah boh Chi lo sa Vuole perdonarsi Vuole rimediare Il Bradley Esatto Perdonare Comunque Comunque Non fare Fare del bene In ogni modo E quindi Non Ma cazzista Manda il link Non blocca il bot Che strano Questo è l'obiettivo Sono bloccato Scusate Vigi consigli E mica Posso parte Noi Il background In Grey Fox La persona per bene Senza Mafia Come cazzate erano Il civile Il civile Magari Con un ristorante Qualsiasi cosa Però Qualcosa di bello Qualcosa di Di nuovo Ok 5 esempi Di power game Senza veicoli Senza veicoli Sì Allora Portare con sé Più Più Ragazzi Comunque Che consentito Ragazzi Puoi trasportare Una persona In braccio Correndo O notando Siamo a 30 Follow Della giornata Altri 10 E doppiamo L'obiettivo Di oggi 40 E doppiamo I 20 richiesti Di oggi Dai 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 Su Di Di Se no Puoi Tre Giusto Ci pare Scrivere Su bg Lo trovi Semplicemente Qua Caro Guarda E Se no E Poi c'è gente Che lo rifissa Ogni volta Ah Ti può superare Il limite Di bende Se non sbaglio 5 5 3 esempi Di filler Il rp Qua scaletta C'è la vera Questa voce qua Ma i gran pg Mi fai tenete Saguay Meno Dove lo artis Certo che ne vedi Allora Parlare da morto Prima cosa Seconda cosa Poi c'era Cos'altro Sono dicevo 100 sub Grazie Grazie Sarebbe Bellissimo Poi là Un nuovo staff Rubare Qualcosa Se non si può fare Anche Tipo Andare davanti Una persona Rubare Come si dice Rubare da lontananza Tu metti il tasto Sul Ruba Rapina E ti allontani Poi Quei Nuovo staff E rapiamo Paulux Forse Magari C'è messi 100 sub Magari Ringrazierei Un botto Se no Un altro esempio Potrebbe essere Grae Fox Per vedere tutto Devi premere Il forretto bianco qua E il calendario qua È talmente facile Che è difficile Ad esempio Togliendo Mettendo queste reazioni qui Ti dai ruoli Comunque C'è l'impero E attesa White Lista Senza armi Senza Minacce Allora Senza armi Senza minacce Però Se ti dico Tipo Estigare un poliziotto Tipo Insultarlo È Non fiar Mamma mia Non è non fiar Se no andare In una zona Interdetta Che no Fiat Come tu Sto bannato Questo Andare Che ne so Velocissimo 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 In zone stradali Senza Senza aver paura Di sbattere Diventare un Punch Shocker Senza Che ne so Correre In mezzo All'autostrada E senza aver paura Di diventare parte Dell'autostrada Correndo Mi ha sposto Un attimo giù Ciao Ander Ciao Nesse Ciao Ander Sì ciao Ciao Tengo buttato Perché C'è una cosa strana A posto Comunque Cambio per fuori L'immagine Di copertina Perché Diciamo Io aprendo La in live Diciamo Ecco Capisci Sono in live Quindi aprendo Aprendo Il banner Ecco Non è l'ideale Ecco Quindi A posto Tentino Tengo la Bradley Eccoci qua Dimo Senza niente Lo steamer partner La scelta dello staff A chi darlo Macchina Radio Forse sapere Tipo che La polizia Il tratto Che fanno Le polizie Non penso Cambiare Le server Le server Questa cosa qua Infatti Usare Usare La polizia Non è metagame Beh No C'è un'altra cosa Ok Però vabbè E' un plugin Allora Spesso Volentieri Si Se avessi Qui per esempio Stai portato sul mod Foglio Foglio Questo qua Ancora non penso Non può entrare in un'azione Questo qua Sì Questo sì Questo non lo so C'è una rapina Io Sono due Qualissima C'è il Il coso Come si chiama Il L'ostaggio Non possono entrare Altre due persone A Sparci Fare Cazzate Uno Posso mettere A far Posso mettere Un mio amico Fare l'ostaggio Quindi L'ostaggio Con la Come si chiama L'ostaggio Che è amico Dei rapinatori No Non dovresti poterlo Fare Gusta Il car Kill Il car Kill Quando ti Grazie per i bit Brand Dox Grazie per la macchina Ci rimani Grazie per i 5 bit Grazie mille Con la macchina Tu stai sopra la persona Per bloccarlo Grazie mille Grazie mille E' il terzo Che ha donato più bit In questo momento Bravissima Grazie Quali sono le fazioni Autoreale? Cosa? Quali sono le fazioni Si si può usare Un amico Ah Le fazioni neutrali Sono I medici Esatto Esatto Neutrali Sono i medici E sono i medici Sono i medici Ah Forse anche Il cosmo Si chiama Il cartello Doveva essere Neutrale Giusto anche Minchia No Non è neutrali No Neutrale Neutrale in senso Che Non è stata Nella parte Nell'altra Solo per se stesso Comunque Neutrale Se no Sono i medici No Dopo che ti resta Il medico Dopo quanto Puoi ricordare Dopo che ti resta Il medico 15 minuti Se ti resta L'admin Non puoi ricordare Perché è come Se è andato Se fosse lo slash Ambulanza Se non sbaglio Slash Ambulanza Ah Un'ora Giusto Sì Un'ora Il resto Il medico È un'ora Bruno Comunque Le fazioni Neutrale Sono Medici Medici Concessionario L'ostaggio Può essere Concordato Con il criminale Ma rischia La fermata Se viene Atterrato Quando tu Arrim Devi fare Gli esempi Di metagame Ok Ma Slash Ambulanza Non è un'ora Sì Un'ora Non ti ho dato Come è sbagliata Eh Cos'è che è un'ora Non ho capito Il resto è il medico Ah Giusto E Le altre Errori Che ti ho detto Quindi torna Appena Ti fai Il riletto Gli esempi Di metagame Quando tu Arrim Devi fare Oddio L'ho messo Un po' troppo tardi Il pronostico Infatti Niente F Ho messo la mente Qualcuno Ho votato Qualcodo E basta Ho messo il pronostico Troppo tardi E infatti Solo una persona È riuscito A mettere 100 Punti F Comunque Comunque Ci sta Pier Salva Che mi ha chiesto in chat Perché non lo vuoi spostare Andiamo Andiamo Eh perché Mentira a me Non va bene Però Non lo sposterò Oh Aspetta Vediamo un attimo C'è uno Andref 3 Aspetta 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 Che c'è uno Andref Vediamo un attimo Una vaccina Ah vaccina Un attimo Andref Andref Lo spostiamo Ciao Eh Ti senti Andref 1 Andref 2 Andref 3 Non c'è Adatto Deve compilare Il Odulo Whitelist Andref 2 Andref 3 Perfect Eh lo so perché Hai puntato solo Tu hai puntato per questo Biscotto 16 17 18 Ancora mancano 10 minuti per questo Ciao biscotto Ciao ragazzi Ti mancano ancora 10-15 minuti per fare la guai Che sa te Ah ok va bene Vieni torna dai Vengo a vedere un attimo l'altra live Dai guarda un po' la live e poi dopo torna Ciao Mi spam Eh Siamo in live comunque Un problema Perfetto Non sento niente Perché non riesci A mandare il modulo Eh perché non riesci E' una domanda Eh sì Ok No perché c'è la modalità lenta E voi fate una roba prima Ho cancellato se sbaglio Eh appena te lo fai inviare ti metti in atteso Guarda sono 7 minuti e 50 Appunto Ok va bene Ma appena finisce il timer Va bene Grazie Ciao Ciao Che famo? Elix Elix Ok l'ultimo Devi ampliare e sistemare il background La verità è da te stesso Sto fatto in un dato Fatti un attimo Figlio di due vo Vien al mondo Tony Una giornata Figlio di due vo È per live per casa? Sì Vabbè Chi? Con te è un rischio Fare le volte Se possano sentire cosa Ehm No Mi so Dopo aver superato 5 Azz Azz Ivantaz Elix No Mi sono preso un colpo Elix Dica 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 È scritto te il tuo background Sì perché? Perché vuole un altro background allora? No no L'ho scritto io Te lo posso assicurare C'è anche il documento Ah L'ho scritto te Quindi 4 mesi fa L'ho scritto anche te Lo stesso Perché sono sempre io L'ho fatto più volte Come si chiamava il tuo Il tuo account vecchio Se stessi sempre te Allora Io mi sono sempre chiamato Tony Scarpa In gioco Poi Vabbè Di Steam Elix Avevo messo anche Il link di Steam Vabbè Parte OC E Sebastiano Comunque Il nome è vero Guarda Questo che mi ha messo è OC Il nome Federico Quindi Il background sembra quello a quello È copiato È copiato È copiato È copiato Federico 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 non so chi sia Non sono io Viene al mondo Elix Viene al mondo Tony Figlio di Janet Riddick Figlio di due avvocati americani Avere superato 5 anni d'asilo Dopo aver superato 5 anni d'asilo Capisci Elix Che è copiato Il background Evidence Io questo background L'ho usato per più server Elix Allora Oggi dici la verità Cioè Noi non ti rimaniamo neanche Però Capisci che Non è che ci inventiamo le cose Le stiamo leggendo davanti a te Le cose stesse Quindi c'è Qualcosa di strano c'è Perché il background è uguale Elix si ricorda benissimo I saiani più difficili Delle superiori Tony Aspetta Ve l'ho letto questo Tony si ricorda benissimo I saiani più difficili Delle superiori Elix Li fai un background tuo Per favore Elix Dai Ma l'ho usato per più server Questo è il mio Allora qualcuno Te l'ha copiato da un altro server Chi lo sa Però comunque Ma io questo l'ho usato Per qualsiasi server Guarda E il problema qual è Che questo è uguale Il background Quindi cambialo E se no che tu l'hai fatto dopo Devi cambiarlo tu Che te l'hanno copiato A questa persona Non ne ho idea Però tu devi cambiarlo Mi dispiace Va bene Va bo Ciao 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 Tan 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 Copiato il background Ai 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 Ancora sto banner Ancora Non ha cambiato La cosa strana E che si chiama Elix Il personaggio Di quello la Aspetta un attimo Non è che qualcuno Che Rimandato sette giù No no Ok non è stato permabannato Il posto Detectives Skooks Eh Ispettore Ispettore Bradley A rapporto Ti chiamano Ispettore Bradley 950 S'arrivat 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 Ma c'è io Oh mi So Si può bestemmiare 950 S'arrivat Non ti banno Non ci banno Siamo semplicemente Family friend 1845 846 850 950 Io 1842 Dai 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 Posso provare un Warcoring game No Tecamente non puoi bestemmiare In game Non puoi bestemmiare In gioco no Ma Posso unire Anche se per due minuti Wolf Così suona un po' male Comunque Come ho detto Però comunque Vieni In attesa di Wildlist Però se Se vi sta solo due minuti Non ha senso Voglio Dani Voglio Dani Chi Voglio Dani Chi È entrato In attesa Aiuto 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 Ragazzi Chi lo sa Biscotto Non mi avete mai Sentito Allora Non mi avete mai Sentito Allora Dani In che senso Cos'è la gara Che li manda Di più No Non è la gara Che li manda Di più No È da chi sta Più Nello staff È chi lavora Questa è la cosa Non è che 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 Fino a quanti Sono passati Fino a quanti Sono passati Com'è Zero Come manco Ve lo dico Perché Sono 900 cristiani 12 Ne ho fatti Passare Precisa Adesso non mi ricordo Quanti Ne ho white listati Un po' Un po' Un po' Di meno Un centinaio Qualche centinaio Io sono 912 Quindi Ci sta Comunque Come il ritmo Beh Bradley È cattivo Ragazzi Quindi È cattivo Bradley Wolfshot Sono biscotto Ciao biscotto Biscotto L'ho fatto Io l'ho Vuol dire Sto biscotto 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 No no Perché Bradley Mi ha abbandonato Alessandro Caso del follo Wolf Wolfshot Grazie per il follo Benvenuto Sarà da conoscere New Enti Eh Vediamo sto qua Che è nuovo Spostiamocelo Ciao Ciao Guarda Devi compilare Modulo White list E background Pg Potete farla White list A posto Ciao Grazie per il follo Tutti quanti O mi dirò Aspetta un attimo Grazie per il follo Da Simo Mala E ad Andre XT Grazie per il follo Tutti quanti Benvenuti Benvenuti Tutti Ancora Doppiamo il goal Di oggi Ragazzi Doppiamo Il obiettivo Di oggi Dai Dai Comunque si Ricordo che Se potete entrare nel mio discord Fare punto Schermativo Discord Se potete entrare nel mio canale youtube Punto Schermativo Yt Per scrivere Vedere i VOD Per vedere Diciamo Le repliche Dei VOD Mi raccomando Diciamo bene bene dai no ivan non sono del non sono del 2005 sono 2002 wolf scott no adesso mi sa che sto staccato staccando olf e sa che vado ora sto staccando verso le sette stacca ragazzi stacco quindi se che vi lascio ora mi lascio da qualcuno che fa gioca su impero mi lascio da mamma mia mi lascio da qualcuno che sa adesso che gioca su impero sono voglio danni e raga ora no ora stacco no perché ninja ora stacca la live quindi inutile lasciarmi andare da ninja quindi io vi lascio da owen ora che fa polizia d'impero quindi vi lascio ragazzi da owen vi lascio da owen che sta anche in maratona quindi daniele il codo ragazzo il follo lo vi lascio da zocchi vi lascio da zocchi e da owen facciamo un sondaggio vi lascio da zocchi e da owen vediamo qua un sondaggio no ragazzi ho messo il sondaggio ho messo il sondaggio ragazzi votate grazie grazie per il follo tanarouge benvenuto grazie mille cazzo questo discorso di là 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 Ragazzi Mancano ancora pochi Siamo a 5 contro 4 Dai su Tutti quelli che stanno in live Grazie Teneruge Grazie per il follow Benvenuto 5 contro 5 Raga è pari Pareggio Votate Votate Dai dai 6 contro 5 6 contro 5 Non se mi follow No raga Pareggio Lo rifaccio Lo rifaccio Un altro sondaggio Della durata di un minuto Lo rifaccio di un minuto Ragazzi Su 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 Cerchiamo di non fare pareggio Per favore Dai Dai su 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 Dai 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 Votate veloce Un minuto In entrambi parti qui davanti Sia U anche Zoki Dai ragazzi Su Zoki Zoki in vantaggio Zoki in vantaggio Zoki Dai vi lascio le Zoki Allora ragazzi Vi ringrazio tanto per stati con me ragazzi Vi ricordo che Fare Punto esclamativo Yt Per Punto esclamativo Yt Per Seguimi su youtube Punto esclamativo Discord Per seguirmi su discord E tutto Vi ringrazio tanto per stati con me E ci vediamo al prossimo live Ciao Ciao